Grazie a tutti. Alcuni non hanno ancora firmato, riconosco tutti quelli che non hanno ancora firmato per gli otto referendum, siamo veramente in un mare di guai se non riusciamo a raggiungere l'obiettivo, quindi vi chiedo chi non ha ancora firmato intanto di firmare qui al tavolo per gli otto referendum. Vediamo se Marcello riesce a dare il microfono a Laura. Vai Marcello, stai lì Laura. Vai su, vai su. Io non volevo dire nulla perché tutto quello che avevo dentro prima, adesso è arrivato Marco, ci ha pensato lui. Io prima ho sentito, vivo l'Italia! Bene, risorgimento, giusto. Ma scusatemi tanto, ma questa Italia, ma non vi fa schifo a voi? A me sì. Questa Italia che marca di guerra criminale, noi l'abbiamo visto nelle carte, c'è scritto. I nostri deputati, i nostri compagni sono andati nelle carceri, hanno visto cosa succede, ci hanno raccontato cosa succede. Ma dico che quella ministra Severino, nella quale ho aggiunto tante speranze, come mi sbaglio a certe volte? Quella non capisce proprio niente. Chiedo scusa, ma veramente non capisce nulla. Confonde una cosa con l'altra. Vabbè, niente, adesso Marco l'ha detto, io mi sono levata veramente, non un sassolino della scarpa, ma una montagna di sassi dal cuore. Ciao a tutti e grazie. Grazie, grazie Laura. Isio, si dai il microfono a Sergio che sta lì. Perfetto. Dopo l'intervento di Marco, non mi resta altro che dire democrazia, libertà, e perché è con la democrazia che possiamo assicurare quella libertà che sola può salvare la situazione italiana che a mio avviso non è mai stata così grave e pericolosa come quella che stiamo attraversando. E questo è quel poco che vi posso dire in questo momento, dandovi tutta la mia partecipazione e la mia presenza e bene scusandomi della povertà con cui riesco solo a... anche perché sono commosso dal fatto che qui, di fronte a questa povereccia di porteria, si sono iniziate i miei approcci per la mia vita, per la mia esistenza radicale. sono stato radicale, sono radicale e il partito è radicale, il traspartito internazionale e trasnazionale è l'unica forza vera che ancora ci resta, tutto il resto sono balle. Va bene, non iniziamo a salvare questo Paese, ricordiamocelo e quindi dobbiamo credere in noi stessi, anche se questo può sembrare presuntuoso, può presentare una benedizione. E vi assicuro che, dato il qui gioco con la mia età, ma pensato che tutto quello che ho passato probabilmente non è ancora questo il momento peggiore che noi siamo portati a dover affrontare, ma certamente un momento di un estremo pericolo, libertà, diritto e democrazia. Grazie, grazie Sergio. Sergio, ma compagni e compagni, amiche e amici, nelle catacombe oggi ci sono i laici, nelle catacombe c'è l'individuo, nelle catacombe ci sono gli anticlericali, nelle catacombe c'è la libertà di scelta individuale, nelle catacombe, nella catacomba di questo Paese che se non stiamo attenti, se non ci rimbocchiamo ancora di più le maniche, giorno dopo giorno potremo togliere il cata e rimarrà invece la tomba, perché la tomba della libertà dell'individuo, la tomba delle idee, la tomba della speranza, la tomba della libertà di scelta. C'è un numero di telefono che si può fare, è lo 066826. Tra poco dirò, per chi non lo sa, che cos'è, ma lo 066826 è un numero che si può chiamare anche in questo momento e poi domani per tutto il giorno. Quando è stata aperta questa breccia, dalla breccia è passato finalmente un vento di libertà, è passata una corrente d'aria che ha costituito uno dei punti cardini fondanti del risorgimento e di quella Italia che nasceva e nasceva sui valori e sulle battaglie del risorgimento, della laicità di questa breccia. Noi oggi dobbiamo lavorare per riaprire questa breccia e questa breccia si riapre soltanto se tante, tante persone inchiuse, tutti siamo consapevoli che la prima breccia, quella che fa passare il vento della libertà, della laicità, è aperta dentro di noi, senza nessun timore reverenziale, senza nessun senso di malinteso imbarazzo rispetto alle guide morali, alle guide spirituali cosiddette autoproclamate, le stesse che andavano come Giovanni Paolo II in giro per l'America centrale, per l'America latina, a celebrare le sorti dei padri missionari che portavano il verbo di Dio tra quei popoli, poi ti vai a vedere le pagine scritte da un contemporaneo di allora, padre Las Casas che racconta come quegli stessi missionari facessero a gara per aprire le pance delle donne indigene incinte, sono piccole contraddizioni che nei discorsi pastorali ufficiali, o mica del 1400, del 1979-80, per non parlare di quelli di Ratzinger, ancora ci sono, quindi aprire la breccia dipende da noi, dipende, guardate questo è un anno difficile, difficilissimo, io continuo a telefonare, continuo a sentire radicali, iscritti da 30 anni, da 35, da 40, da quando io non ero nemmeno nato, e ne faccio 40 ottobre, che mi dicono con un imbarazzo che mi commuove, veramente mi fa stare male, perché è vero, che mi dicono non ce l'ho ancora fatta iscrivermi, temo di non farcela, se mi iscrivo non vengo al congresso, o vengo al congresso, allora, chi non lo ha mai fatto, o chi può farne due, di iscrizioni, o chi non l'ha mai fatto si può iscrivere per la prima volta, lo chiami quel numero 066826, può anche solo lasciare detto che vuole essere richiamato da me, e io lo richiamo, e ne parliamo, e vediamo come ci possiamo organizzare, ma senza quelle iscrizioni, pure a rate, senza quei 200 euro, a radicali italiani, al partito radicale, o i 590 del pacchetto, ripeto, anche a rate, quella breccia non si aprirà, 066826 per vivere, e non per sopravvivere, grazie. Allo segretario dell'Associazione Luca Coscioni, poi siccome stiamo andando verso la conclusione, ma ancora abbiamo due o tre interventi, chiedo Gianfranco Spadaccia anche di venire qui, grazie. Gli amici e i compagni che mi hanno preceduto, hanno evidenziato l'emergenza in cui viviamo, emergenza di diritti, sì, in un paese dove vediamo ogni giorno calpestati diritti acquisiti, leggi dello Stato, chi mi ha preceduto ha parlato di quanto l'obiezione di coscienza limita, per le donne che hanno bisogno di ricorrere all'aborto, l'accesso ad un trattamento che è stato stabilito per legge, con una legge a contenuto costituzionale vincolato. Il rimedio c'è, ma l'illegalità persiste. La settimana prossima ritornerà in aula probabilmente la legge sul testamento biologico. Quante cose, in quanti modi abbiamo evidenziato quanto quella legge non sia per il testamento biologico, ma è una legge che impedisce l'esercizio di un diritto. Allora, l'illegalità che persiste nel nostro paese, la mancanza di coscienza anche nell'appropriarci dei nostri diritti e difenderli, ci portano in uno stato d'emergenza a cui noi dobbiamo reagire immediatamente. In un paese dove un ministro di questo governo dichiara che una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo è una sentenza che ha un valore morale. Quella sentenza è una sentenza che invece impone a uno Stato, lo Stato italiano, di rispettare la carta fondamentale dei diritti dell'uomo, di rispettare il trattato. E allora è arrivato il momento di aprire una nuova breccia di portapia per riappropriarci dei nostri diritti e per difendere tutti i diritti che attualmente sono disattesi. Noi, l'Associazione Coscioni, ogni giorno assiste alle richieste di soggetti, di persone che in questo momento vivono in solitudine l'illegalità del calpestio dei loro diritti. Insieme, insieme con i compagni radicali, con le persone che ogni giorno ci aiutano, non cerchiamo di contrastare tutto ciò, scendiamo nelle piazze, nelle aule dei tribunali, in Parlamento. Ma, ribadisco, momenti come questo di oggi qui, esigono che tutti insieme si prenda coscienza che è arrivato il momento di riappropriarci dei nostri diritti e che l'illegalità di questo Paese, la fraganza di reato a cui si riferiva Marco Pannella prima, debba arrivare ad un termine, è il momento di reagire. Grazie.